Il progetto Penseci è un cortometraggio sulle dipendenze. Oggi più che mai vediamo numeri sempre più allarmanti, soprattutto per i giovani, sia per quanto riguarda la tossicodipendenza che per quanto riguarda l'alcolismo. Il cortometraggio dà delle indicazioni precise, vorrei dire che per alcuni aspetti fa venire anche i brividi rispetto a quello che succede nelle nostre strade quando uno guida con contesti alcolici o sotto le sostanze stupefacenti. Credo che su questo aspetto sia un messaggio importante di prevenzione e ancora oggi un messaggio verso noi genitori e verso chiaramente gli insegnanti della scuola che devono non solo guardare l'aspetto strettamente di risultato ma bensì anche a quelle che sono veramente i momenti di solitudine dei nostri figli, dei nostri ragazzi per potergli dare una mano e chiaramente prevenire quelle che possono essere le conseguenze verso le dipendenze.